In questo video, vi mostrerò come modificare il codice di accesso su iPhone 16. Se desiderate cambiare la password richiesta per sbloccare il telefono, seguite queste istruzioni. Innanzitutto, aprite le impostazioni. Scorrete verso il basso e selezionate in Face ID e Codice. Inserite il codice attuale. Scorrete nuovamente verso il basso e selezionate l'opzione Modifica codice. Inserite nuovamente il codice attuale. A questo punto, vi verrà richiesto di inserire il nuovo codice. Per impostazione predefinita, il codice è composto da sei cifre. Se desiderate modificarne la lunghezza, selezionate in Opzioni codice né scegliete un codice a quattro cifre o un'altra opzione a vostra scelta. Inserite il nuovo codice e confermatelo digitandolo una seconda volta. Il nuovo codice verrà quindi salvato. L'operazione richiederà alcuni secondi. Come potete vedere, il codice è stato modificato. Se questo video vi è stato utile, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale.